Sfida che torna a Teramo dopo 19 anni, l'ultima volta in campionato Serie C 26 gennaio 2003, pari a Vincente, una partita straordinaria a Biancone e Rispose Motta, un altro calcio senza voler offendere naturalmente per questo quello attuale. Guidi deve rinunciare al contributo di Pinto e Aseosmanovic rispetto a Fermo una sola novità, in difesa al primo minuto Jacoponi, Pescara primo di Drudi e Cernigoi, c'è naturalmente Dursi confermato ma soprattutto in difesa rientrano Ijanes e Veroli, Veroli che aveva scontato il turno di stop causa squalifica nella precedente vittoria straordinaria interna del turno infrasittimanale contro il Cesena. Attacca il Pescara, un dicesimo minuto con questo sinistro di Pompetti, un buon primo tempo quello di Pompetti, poi calato la distanza, non è al top della condizione, si è detto anche per un principio di pubalgia. Diciassettesimo, diciottesimo nel corso del primo tempo, Dursi va a puntare su di Ripettaio e poi insomma un destro a giro fantastico con il portiere Peruchini che deve distendersi per sventare la minaccia. Una prudezza quella del samo difensore del Teramo Peruchini classe 91, arrivato da svincolato nella squadra di Federico Guidi, c'è il tentativo di Malotti, questa era una buona opportunità per il Teramo sul rimpallo favorevole di cui aveva beneficiato il 7 Biancorosso, ex Novara e San Benedettese. Trentesimo minuto, c'è questo scambio tra Cravenza e Dursi, palla in mezzo, la diagonale salvifica di Mordini che va ad anticipare Ferrari, sarebbe stato un gol praticamente a porta vuota per il centralante argentino. Poi sull'angolo c'è il tentativo, la volè di Ferrari, il salvataggio anche in questo caso, come un gol fatto di Capitano Arrigoni, il migliore del Teramo, 55esimo nel corso appunto di questa partita, il colpo di testa di Soprano. Cambia la gara nel secondo tempo, il Teramo si fa nettamente preferire alla Pescara, guardate Bernardotto che fa sportellate e poi l'appoggio per Jacoponi che però colpisce male, non c'è stata neanche deviazione, da posizione interessante, 62esimo, ci sono tanti cambi da una parte e dall'altra, poi il Teramo passerà al 3-5-2 con l'ingresso in campo di D'Andrea o per meglio dire 5-3-2, entra anche De Grazia, guardate qui con Bernardotto che fa sportellata e un gran lavoro prezioso, la palla, lo scarico per De Grazia, appena entrato il sinistro che va a baciare quasi il palo destro della porta, difesa da Sorrentino che oggi festeggiava la convocazione in Nazionale Under 20, il CT Alberto Bollini, la prima convocazione in carriera strameritata, poi 77esimo il Pescara con poche idee, pochissime idee nel secondo tempo, la palla gira lentamente, non ci sono marchi anche perché il Teramo è molto organizzato nelle retrovie, ripetiamo 3-5-2, 5-3-2 in fase di un possesso negli ultimi 20 minuti, poi ancora Bernardotto che spaventa la formazione bianca-azzura, non c'è deviazione anche se si arrabbia il 9 bianco-rosso per questo tiro cross, suo dire deviato dal giocatore del Pescara, poi 91esimo minuto, sono 5 i minuti di recupero decretati dal direttore di gara Virgilio Di Trapani, non accadrà di fatto più nulla, anche se vediamo al 92esimo c'è questo tentativo ancora del Teramo, un rinvio e guardate Jacoponi quasi a liberare la sua metà campo, una traiettoria velenosa con Sorrentino che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo, mette il pallone oltre la traversa, 95esimo, palla che viene giocata ancora dalla Pescara, blocca la sfera senza problemi, il portiere del Teramo Peruchini finisce 0-0 tra Teramo e Pescara, è un deciso passo indietro al nostro avviso della Pescara, brutto secondo tempo, un secondo tempo in cui la Pescara non ha creato nulla dopo una discreta prima frazione, ha vinto il pubblico, 3.000 spettatori presenti al Bonolis, 0-0 un pari strameritato per i bianco-rossi di Federico Guidi.